Icaro nelle sue ultime dirette si è espresso sull'Italia e sui giocatori italiani, in particolare ha parlato di due giovani molto promettenti. Ha parlato di Sonis e Ludici dicendo che li trova molto promettenti e con una buona comprensione del gioco. Si ricorda di loro da I.M. addirittura nei tornei online, quindi quando erano ancora maestri internazionali. Romualdo li ha anche contattati, ha chiesto appunto loro cosa ne pensassero e Sonis ha risposto che è contento e spera di poter continuare così, anche se è difficile e Lorenzo ha detto che le parole di Icaro fanno curriculum. Che ne pensi Alessio? Classico da Francesco fare il super modesto, direi è difficile continuare. Ragazzo veramente super modesto. È la sensazione che Francesco non si renda mai conto di quanto sia forte minimamente. È tutto un caso no? Ovviamente ha pronunciato Lodici sbagliato Icaro, come avrà detto Lodici? Come l'avrà pronunciato? Probabilmente non lo so. Lodici?